Una democrazia della maggioranza sarebbe per definizione una insanabile contraddizione per la confusione tra strumenti di governo e tutela della effettiva condizione di diritti e di libertà. Al cuore della democrazia, come qui leggiamo, vi sono le persone, le relazioni e le comunità cui esse danno vita, le espressioni civili, sociali e economiche che sono frutto della loro libertà, delle loro aspirazioni, della loro umanità. Questo è il cardine della nostra Costituzione. Questa chiave di volta della democrazia opere sostiene la crescita di un Paese, compreso il funzionamento delle sue istituzioni. Se al di là delle idee e degli interessi molteplici c'è la percezione di un modo di stare insieme e di un bene comune. Se non si cede alla ossessiva proclamazione di quel che è contrappone, della rivalza, della delegittimazione. Se l'universalità dei diritti non viene menomata da condizioni di squilibrio. Se la solidarietà resta il tessuto connettivo di un'economia sostenibile. Se la partecipazione è viva, diffusa, consapevole del proprio valore e della propria necessità, della propria essenziale necessità. Nel cambiamento d'epoca che ci è dato vivere avvertiamo tutta la difficoltà e a volte persino un certo affanno nel funzionamento delle democrazie. Oggi constatiamo criticità inedite che si aggiungono a problemi più antichi. La democrazia non è mai conquistata per sempre. Anzi, il succedersi delle diverse condizioni storiche e delle loro mutevoli caratteristiche ne richiede un attento costante inveramento.